Senatore, l'ambasciatore ha detto che è suo grande amico, ma è proprio così? Eh sì, è vero. Ormai da un po' di anni che ci frequentiamo e che siamo amici, abbiamo sempre delle istituzioni da rispettare, ma l'amicizia è l'amicizia. Io credo che è molto importante che l'ambasciatore sia amico mio e che reciprocamente siamo amici, ma più che altro per il bene dei nostri paesi. Tra un mese esatto partirà questa delegazione italiana, questa spedizione italiana in Corea del Nord, in molti non ci credono, invece è così? Ma è così, il 25, precisamente alle 13.40 partiamo da Fiumicino, via Amsterdam e poi Pechino, arriviamo lì al giorno 26 verso le due e mezza, le tre a Pyongyang e penso che con un una delegazione di 23 persone, 8 parlamentari e una decina di imprenditori eccetera eccetera sicuramente sarà un grande successo non solo per me che sono capo delegazione, ma sarà un successo per tutta l'Italia. Ecco, quando si parla dell'Abruzzo che lavora e degli imprenditori che si fanno strada nel mondo dell'economia italiana, Pietro Ferrante è uno di questi, in pochi sanno forse quello che lui fa e crea. No, lo sanno in tanti per fortuna. No, in Abruzzo, per il mondo sì. Nel mondo il bene importante è fare, non apparire e sono fortunato di aver dato e di aver ricevuto l'amicizia del senatore e di conseguenza delle sue amicizie diplomatiche, così possiamo ancora di più ampliare le nostre vedute e far conoscere i nostri lavori nel mondo. Cosa significa andare a fare, a scoprire nuovi mercati nel sud-est asiatico, in Corea del Nord, per esempio? Appartiene prettamente all'artista la curiosità di conoscere paesi oggi inaccessibili, ma che avranno senz'altro e certamente un notevole sviluppo. Grazie a questo ai rapporti di amicizia e di correttezza e lealtà tra il senatore e la diplomazia della Corea del Nord.